Si lanciano messaggi a distanza, Umberto Bossi e Roberto Maroni, da tempo duellanti in una Lega Nord dove il segretario federale si sforza di riportare l'unità, mentre il senatur non accetta il ruolo di secondo piano in cui è stato relegato. Sono superiore a queste beghe, l'espulsione non mi preoccupa, ha detto ieri Bossi da Roma, spiegando che se arrivasse la cacciata lui risponderebbe con una pernacchia. E a chi gli domandava se si sentisse come il padre ucciso dal proprio figlio ha risposto per fortuna io e Maroni non siamo padre e figlio. Dall'altro lato l'ex delfino sull'eventuale espulsione del vecchio leader non si pronuncia e continua a ribadire che è stata tirata una linea di intransigenza. Io sono il segretario federale, c'è una linea politica, chi non è d'accordo si può accomodare fuori, il mondo è grande. In una lettera inviata a tutte le sezioni del carroccio il segretario scrive che in giro c'è qualcuno che si vanta di essere chissà chi, che ha ancora nostalgia dei cerchi e dei bel siti, che fomenta odio. E ancora, chi vuole distruggere la Lega verrà distrutto. Dobbiamo fare ripartire la Lega di lotta, aggiunge Maroni, ritornando a fare sventolare le bandiere dell'indipendenza, della Padania e della nuova Europa dei popoli. E poi è ora di smetterla di farci del male con interviste polemiche, risse verbali. La Lega conclude il segretario e immortale e continuerà a vivere e a lottare anche dopo Bossi e Maroni.